Ciao a tutti e benvenuti su polveri di riso, la ricetta che faremo oggi è un fruit cake alla banana super soffice nella versione senza e con glutine come sempre senza lattosio e ideale anche perché le ho giovanite, quindi io vi lascio la ricetta e buona visione! Se non avete due banane mature ma ne avete solo una che vi servirà poi per la decorazione finale del fruit cake alla banana potete utilizzare questi concentrati alla frutta che si utilizzano per i bambini di solito che trovate in tutti i supermercati a pochissimi centesimi, questi mi pare che due costano tipo 50-60 centesimi, pochissimo questo è ad esempio mela e banana, ma l'ho trovato veramente in tutti i supermercati sono in porzione da 100 grammi quindi è perfetto da utilizzare al posto della banana schiacciata se ne avete solo una a presto! a presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.